Sfida di metà febbraio quella che vede contrapporsi Ligorna e Borgosesia. Al decimo il primo acuto ospite con Bigotto che in acrobazia non trova il tocco vincente. Al ventunesimo cross mirabile per Gulli che si coordina al volo ma il tiro finisce fuori di poco. Voliamo al quarantesimo punizione Borgosesia parte Ravasi ma lo shoot sfila fuori. Inizia il secondo tempo e ancora punizione ospite parte Ferrandino e trova uno splendido gol. Mirabile gesto tecnico del giocatore amaranto che porta i suoi sullo 0 a 1. Passano nove minuti e Ligorna risponde con un vero e proprio capolavoro siglato da Lala. Splendida azione e gol da vedere e rivedere che regala il pareggio ai padroni di casa. È uno a uno. Sessantaseiesimo super occasione Ligorna che prende fiducia ma non trova la via del gol. A un minuto dalla fine però sono gli ospiti ad avere sui piedi il gol vittoria incredibilmente mancato. Nel giorno del compleanno del presidente Torrice del Ligorna arriva così un piccolo ma importante regalo da parte dei suoi che trovano un buon uno a uno finale. Grazie a tutti.